C'è pure, è abbondante, diciamo così, fisicamente, è una massa corporea non indifferente, potrebbe anche… Stai parlando di Matteo Salvini, lo diciamo per chi non… Certo, 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 certo. Matteo Salvini, quello con le mani sudaticce e floffie. Ah, perché questa cosa? Perché l'ho incontrato un paio di volte in vita mia, anzi l'avevo anche visto quando io… Beh, tu sai che io ho un passato complicato perché… Perché tu sei stato in Lega o comunque hai avuto… Io sono stato il consigliere di Pagliarini quando era ministro e ho cercato di dare una mano a quella parte di Lega che mi sembrava avere un cervello, fra il 93, io sono uno che pensa che il federalismo sarebbe estremamente utile all'Italia, quindi tra il 93 e quando poi quell'uomo di cui ho sempre avuto profondo disprezzo, cioè Umberto Bossi, decise di fare quella follia di mandare a carte 48 il primo governo Berlusconi e vendersi a lei, insomma poi cercò di riparare inventandosi l'indipendentismo, io dissi manteni i miei rapporti con Giancarlo e alcune altre persone in Lega che erano delle persone per bene, però dici, vabbè ragazzi non esiste queste follie, non ci sto, quindi vedi il ragazzo circolare al tempo, lo rincontrai dopo e quindi qualcuno mi raccontava chi era eccetera, la gente parla, lo rincontrai dopo in un paio di dibattiti televisivi e queste mani suddaticce e false da allora e sono un ricordo vero Matteo, cosa vuoi che ti dica, così sei, lo so che ti dispiace, posso dare un giudizio, un tipo sgradevo, ma lo conosco poco, l'impressione mia, la mia impressione è sì ma li ricordo, c'erano al liceo quelli così, c'erano quelli con le frustrazioni e le ambizioni allo stesso tempo, quelli disposti a dire tutto il contrario di tutti, quelli che avrebbero voluto essere molto intelligenti e bravi a scrivere in italiano anche in matematica ma non ci riuscivano, anche perché è senz'altro, un grandissimo arrivista, infatti è una delle domande che mi faccio perché da quando è diventato palese che questo governo si sarebbe realizzato ben prima delle elezioni, ho scritto questo ben prima delle elezioni, i rossobrunati, l'espressione l'ho coniata allora, la mia domanda è sempre stata, al contrario di molti amici che hanno visto nel 5 Stelle, la salvezza? No, il grande pericolo, il mondo nostro, mio almeno, c'è un odio sviscerato, viscerale per 5 Stelle, per carità io ho un profondo disprezzo per questo, però era anche chiaro che non avrebbero avuto, perché non c'era tela da tessere, Salvini e la Lega sono una cosa più complessa, loro hanno assorbito fino e quindi, i risultati, sono stati freddo, sono stati freddo, sono stati freddo, sono stati freddo,